Ciao a tutti, bentornati! Oggi voglio parlarvi di maschere viso. Io infatti ho preso il mio portamaschere, il mio contenitore di maschere e all'interno, stracolmo, ci sono tutte le maschere che ultimamente sto utilizzando e che adesso possiedo. Sono abbastanza infissa in questo momento con le maschere, ne sto acquistando tante e infatti dovrei fermarmi, ma mi piace sperimentare e quindi ne ho diverse. Io la maschera viso l'appico due volte a settimana, ultimamente sto anche abbondando con tre volte a settimana, ma ho indicato anche farne due volte a settimana di maschere. La maschera è in realtà un trattamento specifico per una determinata esigenza, infatti ce ne sono tantissime in commercio, ce ne sono di diverse tipologie. Io infatti voglio partire dalla prima che mi capita ed è una delle ultime acquistate, l'ultima che ho provato, una delle ultime, ed è la maschera di I'm From, la Honey Mask. Questa qui è una maschera che, a parte la consistenza e la texture che sono meravigliosa, sembra caramello, sa un sacco di miele, è una maschera prettamente idratante, va un sacco ad ammorbidire anche la pelle. Quando ho applicato questa maschera mi sono ritrovata con una pelle molto liscia, super morbida, quasi vellutata, piacevolissima da tenere anche in posa, non è fastidiosa, non si asciuga sul viso, resta comunque abbastanza umida. Si tiene in posa circa 15-10 minuti, dopodiché si sciacqua con l'acqua e appunto la resa è molto bella, a me è piaciuta tanto. È quasi una coccola, quindi io poi le maschere che non mi irritano, che non mi tirano, sono piacevoli anche da tenere, mi piacciono tanto. Questa qui infatti assolutamente mi sta piacendo. Ho preso il formato mini size perché costando anche parecchio il formato full e avendone tante era un po' uno spreco comprarla in full size. L'ho presa dal sito YesStyle e io tra l'altro consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata a quel sito. Vi lascio il link con il mio codice sconto ROSACI20. Se siete delle amanti della skin care assolutamente andate a darci un'occhiata perché hanno migliaia di prodotti, tra cui questa maschera che è favolosa. Se amate poi le texture particolari e vi piace anche giocare con i prodotti di skin care andate assolutamente a sbirciare. Altra new entry è la maschera di Fresh della Rose Face Mask, anche qui da 30 ml. Non è proprio economica anche lei come maschera, motivo per cui anche di lei ho preso il formato mini. Ma non solo per questo, anche perché mi piace magari averne tante, testarne più di una e quindi preferisco prendere i formati mini. Questa qui è molto particolare perché ha una consistenza super gelatinosa e all'interno ha petale di rosa. È una maschera che ha un effetto lenitivo e anche illuminante. È anche consigliata per l'utilizzo quotidiano. Io però l'ho applicata due giorni di seguito, non ho avuto alcun problema. Va tenuta in posa circa 15 minuti. Oltre il tempo indicato, io ritengo sia anche un po' fastidiosa da tenere in posa. si rimuove facilmente senza alcun problema. Anche lei non secca, resta comunque umida e non avete comunque l'effetto gesso, insomma, tipo le maschere d'argilla. Anche lei abbastanza goccola come maschera. Se non amate la fragranza, le rose, può risultare anche un po' forte e pesante. Io che adoro quella fragranza, all'interno c'è anche del cetriolo, che secondo me è troppo. Cioè, cetriolo più fragranza le rose, non è proprio... dopo un po', insomma, può dar fastidio. Un'altra maschera di cui vi ho parlato anche tanto, e ce l'ho, come vedete, in diversi formati, è la maschera di Origins. Questa qui è la maschera al carbone, al carbone nero. È una maschera prettamente purificante. Io, infatti, non la utilizzo ogni settimana, ma l'alterno ogni due settimane. L'effetto, diciamo, i benefici di questa maschera sono appunto di andare a pulire per bene i pori e anche a, diciamo, restringere, perché una volta che il por è pulito, diciamo, con i trattamenti successivi, magari col tonico, riusciamo a restringerli leggermente. È una maschera che io, come vedete, adoro, perché appunto mi piace un sacco, soprattutto quando cerco un trattamento, appunto, d'urto. Non la consiglio alle pelli particolarmente sensibili, perché potrebbe essere un po' aggressiva. Le altre che vi ho mostrato sono adatte per tutte le tipologie di pelli. Queste maschere un po' più purificanti, magari sono un po' più particolari per le pelli particolarmente sensibili o acneiche, magari fate attenzione perché potrebbero creare qualche problema, potrebbero anche irritare particolarmente la pelle. Io che magari cerco una pulizia un po' più profonda, questa maschera mi piace un sacco. Va anche a, secondo me, regolarizzare anche il seguo in eccesso di una maschera che io adoro, adoro. Poi, altra maschera, vediamo che c'è qui. Qui abbiamo un'altra maschera di Origins e della maschera all'avocado. Questa è una maschera notte, quindi io la tengo in posa tutta la notte ed è prettamente idratante. Quindi le maschere notte tendenzialmente sono maschere un po' più idratanti. Però quando magari, soprattutto quando con queste temperature molto rigide e chiaramente la pelle è un po' più secca del solito, per darle un po' di nutrimento in più, questa maschera all'avocado è perfetta. È anche piacevole da applicare e anche da tenere in posa. Anche la fragranza mi piace tanto. Al mattino vi svegliate con la pelle completamente asciutta, che però va comunque sciacquata perché qualche residuo, se poi andate a lavare il viso, viene via e mi piace tanto. Io poi sto adorando anche le maschere notte. Altra maschera notte è la maschera di Laneige, della Water Sleeping Mask alla lavanda. È una maschera... ma mi piace tanto il profumo. Io ce l'ho tra l'altro da 15 ml, l'ho trovata in un calendario dell'avvento. È una maschera prettamente idratante. Anche lei va tenuta in posa tutta la notte. Trovo che però tra le due, questa qui di Origins sia più idratante rispetto a lei. Si assorbe abbastanza in fretta. Dovete applicarne parecchio di prodotto per avere la patina e per tenerla in posa tutta la notte, in modo che vada a idratare fino in profondità. È appunto anche lei una coccola. Altra maschera è questa maschera di Renne. È una maschera a trattamento. All'interno c'è acido glicolico e acido lattico. È prettamente illuminante. Ha un'azione sfogliante, quindi è più un trattamento vero e proprio. Effetto anche un'azione levigante. Quando io rimuovo questa maschera ho la pelle molto più soda, più rassodata. Consigliata per le pelli secche. Io ho una pelle mista, ma comunque mi ci trovo abbastanza bene. Non ho alcun problema. Io penso che anche per le pelli miste e grasse possa andare bene. Mi piace tanto l'effetto. Mi piace come lascia la pelle super liscia, rassodata. E quindi è una maschera che mi piace. Ha una consistenza, diciamo, gelatinosa. Non si asciuga, resta comunque bagnata. È facile anche da rimuovere. Va tenuta in posa 15 minuti. Oltre quel tempo va un po' a pizzicare, a dare fastidio. Quindi sconsiglio di tenerla più del dovuto questa maschera. Mi piace soprattutto quando cerco un effetto un po' più forte, più strong. Un'altra maschera che sto amando follemente è la maschera di D.R. Klairs. È una maschera notte. Ha una consistenza bellissima. Tra l'altro io l'ho utilizzata diverse volte. E la cosa bellissima di questa maschera, oltre alla texture super budinosa, si ricompatta puntualmente. Cioè io prelevo il prodotto, il mattino dopo è completamente ricompattata. È composta da niacinamide e vitamina C. Ha un effetto sebo regolatore. Io la tengo in posa tutta la notte. Mi lascia la pelle super morbida. È proprio quasi velluto. Io cerco poi un effetto anche, soprattutto nella zona T, che mi vada a regolarizzare un po' il sebo in eccesso. Questa maschera vi aiuta un sacco, proprio perché all'interno ha niacinamide. La niacinamide aiuta anche a, diciamo, illuminare, a attenuare quelle macchie che magari abbiamo sul viso. È una maschera che mi piace tanto, tanto, tanto. Non dà assolutamente fastidio alla pelle. Mi piace tantissimo. È una delle mie maschere attualmente preferite. Io ce l'ho in versione 90 ml, sì. E anche questa la trovate su YesStyle. Ha un costo non proprio basso, però io ve la consiglio anche in formato mini size, se amate anche le maschere notte. Anche come crema può essere utilizzata, magari da tenere in posa, non come crema, ma come maschera da tenere in posa qualche minuto in più, diciamo 15-10 minuti, se magari ci applicate uno strato un po' più importante e poi la potete rimuovere. Però se volete un effetto davvero strong, io consiglio di utilizzarla tutta la notte, perché è fantastica. Altra maschera a trattamento è questa maschera di Omorovizka. Credo di averla pronunciata bene. Ed è la Silver Skin Sour. È una maschera che all'interno ha acido salicilico e acido glicorico. Ha un effetto prettamente illuminante, anche astringente. Mi piace l'effetto perché mi lascia la pelle molto levigata, super levigata, quindi ha un effetto anche astringente sui pori. Va tenuta in posa anche lei 15-15 minuti. Ha una profumazione molto forte. Anche lei è una maschera, non proprio low cost, costicchia un bel po', io direi high cost. Anche lei, però, fortunatamente l'ho trovata all'interno di un calendario e c'era nel formato da 15 ml. Infatti, nel formato full non credo che la ricomprerei, però, soprattutto anche lei, quando cerca un effetto abbastanza strong, mi piace un sacco applicarla. La consistenza della texture è gelatinosa, anche lei facile ad applicare, non si asciuga sul viso, resta comunque abbastanza umida e bella. Altre due maschere che ve le mostro insieme perché sono paragonabili e molto simili. Sono entrambe maschere all'argilla rosa. Una è la maschera di Origins e l'altra è la maschera di Emma Hardy. Sono appunto due maschere all'argilla rosa, quindi prettamente sono maschere purificanti, anche leviganti, soprattutto la maschera di Origins. Allo stesso tempo hanno anche un effetto illuminante, quindi donano un po' di luminosità alla pelle. Lei in particolare mi piace di più perché va anche a fare questo effetto esfoliante, va a fare questa leggera esfoliazione al viso, soprattutto quando andate a rimuovere, quindi oltre a pulire, oltre a pulificare, va anche a pulire per bene. Vanno tenute in posa, anche loro, circa 15-10 minuti. Sono maschere che però si asciugano, quindi si induriscono. Io sconsiglio di tenere in posa le maschere troppo tempo, soprattutto questo tipo di maschere che tendono ad asciugarsi e ad irrigidirsi. Io quando le maschere di questo tipo tendono a diventare abbastanza dure sul viso, le inumidisco con una mist o con anche acqua vaporizzata, proprio perché altrimenti andiamo poi a sgassarle troppo e a seccare troppo la pelle, il che non fa bene. Tra le due, anche per quanto riguarda l'effetto luminoso, mi piace di più l'effetto che mi dona la maschera di Origins. Andiamo anche qui di maschera nuova. Questa qui è una maschera, anche lei particolare a suo modo, è la maschera di Avant, alla rosa, al quarzo rosa, acido ialuronico, olio di mandorle dolci, avocado ed è una maschera particolare, in quanto anche lei è possibile applicarla, diciamo, durante la notte, ma non solo. Si può applicare sia come maschera, la tenere in posa a 15-20 minuti, ma non è necessario, diciamo, rimuovere il prodotto. Ha un colore bellissimo perché è un rosa molto bello. La cosa bella di questa maschera è che, una volta applicata, la pelle la assorbe completamente e scompare. Quindi non avete la maschera sul viso, ma in realtà l'avete applicata. Motivo per cui è bene tenerla, cioè è consigliata anche tenerla anche tutta la notte. Mi piace tanto perché è un effetto super luminoso, dona un effetto, secondo me, molto luminoso alla pelle. Va anche a idratare un sacco la pelle, anche leggermente a dare questo effetto un po' più levigato al viso. È una maschera molto costosa, motivo per cui ce l'ho anche lei, in versione mini, da 50 ml. Di questa sarei tentata anche ad acquistare la versione full. Non costa poco, tanto che è un investimento abbastanza importante, però è una maschera che mi piace, particolare a suo modo, diversa anche dalle altre. La fragranza è molto luxury. Se siete delle amanti della fragrance free, quindi se non vi piacciono le fragranze all'interno dei prodotti, può non piacervi. Io che invece amo le fragranze all'interno dei prodotti, mi piace da morire, quindi è una maschera davvero che mi sta piacendo tanto. Anche lei, novità, super apprezzata. Altra maschera è questa maschera di Corres. Ad esempio, lei è una maschera che non mi dice nulla, è la maschera lo yogurt greco. È una maschera prettamente idratante. Anche lei è una maschera che non si asciuga, rimane comunque umida sul viso. Non l'ho applicata mai durante tutta la notte. L'ho sempre utilizzata come maschera e poi rimossa dopo poco. Devo dire che forse sì, l'effetto idratante riesce a darlo, però è una maschera che è senza infamie e senza lode. Non mi piace particolarmente. Io non la ricomprerei. Non so. Ho sentito parlare bene di questa maschera, però io nello specifico no. Altra maschera è la maschera di Lush. Questa qui è la famosissima, pluripremiata e plurifamosa maschera peperita. È una maschera che ha questa consistenza molto granulosa, molto argillosa. È fatta oltre ad essere super fresca, infatti è molto fresca quando la applicate sul viso. La texture è granulosa, quindi va a fare anche questo effetto un po' esfoliante e rassoda un sacco la pelle. Avete proprio la pelle molto più compatta, più soda e diciamo che quando fa abbastanza freddo non è proprio piacevole tenerla sul viso. Però quando volete svegliarvi un po', avete bisogno di donare un po' più di freschezza al viso, questa maschera è molto piacevole. È davvero un toccasana questa maschera. Mi piace tanto. Altra maschera purificante è questa maschera anche lei di Omorovicca ed è la Deep Cleansing Mask, che è una maschera iper purificante. Questa qui è la classica maschera all'argilla, quindi quella maschera che una volta applicata si asciuga, va a fare proprio, secondo me, anche lei una pulizia abbastanza strong, paragonabile alla maschera di Origins. Anzi, io ritengo che questa qui invece è meno aggressiva, io la considero anche alle pelli un po' più sensibili. Anche lei è una maschera high cost, però è una maschera davvero valida. Io quando cerco anche una maschera purificante, ma magari ho la pelle anche un po' stressata, con qualche imperfezione, non voglio stressarla ulteriormente, applico questa qui. Non voglio terminarla, perché mi piace tanto, soprattutto in quei momenti lì in cui cerco una pulizia profonda, ma non esagerata, cioè comunque con delicatezza. Ecco, questa maschera è perfetta, lascia la pelle super liscia, pulita, anche i pori molto più, meno evidenti, davvero una bellissima maschera. Questo è il formato da 50 ml e bella, bella, bella. Poi, che altro c'è? Questa è un'altra maschera che mi piace tanto, ed è la maschera di Filorga, è la Meso Mask. È una maschera prettamente illuminante. Questa qui è quasi terminata. Quest'anno è stata una maschera che ho amato. Anche questa qui l'ho centellinata. È una maschera anche lei, che una volta applicata tende ad asciugarsi, ma non tanto, quindi non avrete mai l'effetto di maschere, diciamo tipo argilla. si asciuga, ma non diventate gesso sul viso. Va a donare proprio un effetto luminoso. Avete proprio la pelle che si vede molto più luminosa, più levigata. Anche lei va a restringere un po' i pori, ma allo stesso tempo è molto delicata, quindi anche per le pelli sensibili è super indicata. Io l'ho adorata questa maschera. Mi è piaciuta tanto. Anche la stessa texture, anche semplice da applicare, è super favorita. Avendone tante, non so se le riacquisterei, perché ne ho davvero tante di maschere, però è stata una mia preferita quest'anno, quindi assolutamente una che consiglio tanto. Altra maschera da notte, questa maschera della Indeed. Si chiama In Circadian. È una maschera prettamente idratante. Questa qui la applico chiaramente durante la notte, la tengo imposa tutta la notte. Mi sveglio anche al mattino con la pelle non proprio asciutta, ma anche un po' umida. ha una consistenza tipo crema. Si può infatti utilizzare anche come crema viso, però applicando uno strato un po' più importante sul viso, potete tenerla in posa tutta la notte a mo' di maschera, chiaramente dopo aver fatto la normale skin care routine. E devo dire che l'effetto super idratante riesce a darlo. infatti al mattino la pelle è proprio dissetata e anche più distesa. Chiaramente sappiate che andando a idratare la pelle avete anche un effetto più rassodato del viso, proprio perché andando, dandoli da bere, la pelle si distende, quindi non è... non so se avete capito. Infine, ultima maschera, che però devo ancora testare, vi farò sapere, è una new entry, infatti ve l'ho mostrata negli acquisti Sephora, e questa qui della Olen Rixel, che è una maschera illuminante. Io però non l'ho ancora provata, non so dirvi nulla a riguardo, non so proprio, ha un colore molto bello, molto piacevole, quasi quasi la provo stasera, anzi no, non dovrei, magari domani, ma di questa però non so dirvi nulla, quindi non mi esprimo, dovrebbe essere una maschera anche lei, che si asciuga e poi va rimossa dopo qualche minuto, devo studiarla bene, non so ancora. Per il resto, queste erano tutte le maschere che possiedo, io sono, vi ho detto, un amante delle maschere, ho in mente di acquistarne tante altre, per il momento però, devo terminare un po' di quelle che ho, e fatemi sapere anche voi, quali maschere applicate, quali preferite, se avete qualcosa in comune con me, e come sempre nulla, io vi mando un bacio grande, e noi ci vediamo presto, ciao!